Siamo nella gabbia dei leoni e siamo con Vinicio Togni. Vinicio, quando si parla di circo in Italia, i nomi che vengono sempre in mente sono Orfei e Togni. Che tipo di rapporto c'è tra di voi? Beh, intanto di grande rispetto, che comunque sono le due famiglie più prestigiose, importanti e più antiche italiane nel mondo del circo. E poi giustamente la rivalità del conflitto, vero che è il conflitto sano, quello di essere uno più bravo dell'altro e metterci alla prova tutti i giorni di continuo, ci permette di essere attivi, sempre più bravi e con tanta volontà di poterlo fare. Però con grande rispetto delle due famiglie perché giustamente siamo anche molto amici. Senti Vinicio, approfittiamo. Voi sarete qui fino a lunedì, poi vi sposterete su Foggia. Ci vuol dire un po' gli orari? Dal 2 al 13 siamo a Foggia, noi stiamo entrando da San Severo, stiamo entrando nelle Puglie e la nostra tournée è in Puglia e il Natale viene fatto a Bari. Insomma, sarà una stagione meravigliosa anche perché ci troviamo molto bene. Qualche anno fa il circo è già stato in Puglia con un grande successo e uno spettacolo completamente diverso. Quest'anno io ho un appello che faccio di non perdere questo spettacolo perché è uno spettacolo che ha fatto successo ovunque è andato, ma sono sicuro che ritrovate tantissime novità e poi se vogliamo è un puro circo.